Si intitola Piraterie 2, la vendetta, l'ultimo volume del giornalista e sociologo professore universitario Francesco Pira. Il libro racconta di come la deriva dell'informazione durante e soprattutto anche a causa del covid sta rendendo sempre più facile il modello comunicativo che rompe completamente i rapporti relazionali tra le persone. E dunque Pira ha voluto raccontare come la disinformazione e la fragilizzazione del sistema informativo ha prodotto il risultato che i media si stanno di fatto trasformando in mero specchio della società anche nei suoi aspetti più deteriori. Una deriva che l'avvento dei social ha acuito e la crisi generata dalla pandemia ha ulteriormente complicato. Così si è generato un'ulteriore pandemia, quella della disinformazione, secondo l'autore, capace di acuire le dinamiche della polarizzazione che per loro natura si oppongono ai processi di partecipazione democratica. Voi potrete dire che dopo Piraterie occorreva pubblicare Piraterie 2, la vendetta. Con Antonio Liotta, patron della casa editrice Medinova, abbiamo pensato che forse era proprio il caso, visto che c'è stata la pandemia e c'è ancora la pandemia, visto che il nostro rapporto con la tecnologia è triplicata e la nostra social esistenza è quintuplicata. E quindi abbiamo pensato di raccontare ancora una volta attraverso questi interventi settimanali e quindi mettendo insieme tutto quello che la cronaca ci ha restituito e che poi è stato frutto di questa analisi tra il sociologico e la narrazione giornalistica con un pizzico di ironia ma anche con tanta vita vissuta.